Buongiorno, come al solito dei laboratori di Sound Machine, oggi per presentarvi una Fiat 500 degli anni 70, per la prima volta vi presentiamo un lavoro in corso d'opera, questo è un lavoro che prevede una serie di modifiche artigianali che non compromettono l'originalità della vettura, nel senso che sono di facile ripristino tutti i supporti che abbiamo realizzato a partire dalla console che permetterà di alloggiare un monitor 2DIN al centro del cruscotto, sono tutti praticamente asportabili, quindi là dove un domani si volesse riportare la vettura alla sua originalità non v'è alcun problema, basta semplicemente toglierli e la vettura rimane esattamente come era in origine. Qui vedete la realizzazione di questi box che alloggeranno i due subwoofer, perfettamente integrati nei fianchetti laterali che abbiamo proprio realizzato una cassa acustica con una sublime lavorazione in resina in appoggio sui sedili, quindi non è stato modificato nulla del sistema originale. Come si può vedere, come potrete notare insomma, abbiamo realizzato anche due kick panel per l'alloggiamento dell'unità medio alta, rivediamo nuovamente la console che arrogerà il sento monitor, qui avremo quindi a disposizione un sistema che prevede oltre al monitor un sistema a due vie per la medio alta anteriore e una console subwoofer composta da questi due box che alloggeranno a due altoparlanti da 20 cm. Bene, non appena avremo terminato questo lavoro vi presenteremo un nuovo filmato. Grazie, alla prossima, buona Valentina, ciao!